Ciao a tutti, popolo del tubo, e benvenuti in un nuovo giochino in accesso anticipato, ma soprattutto in anteprima. Oggi vi porto Tavern Manager Simulator, la versione ancora demo, la versione, diciamo, ancora incompleta del gioco. Io però voglio ringraziare gli sviluppatori che mi hanno concesso la possibilità di portare questo gioco in anteprima. Ora, non so a che livello è questa demo, cioè se è solo un livello, se si chiama demo, ma perché è una beta, in realtà si può andare avanti con salvataggio. Non lo so, non ho idea. Vediamo, proviamo, giochiamo e testiamo. Prima però vi invito a lasciare un bel likeino, ad iscrivervi al canale, vi ricordo i miei social, qua sotto in descrizione, Facebook e Instagram, TikTok. E anche la piattaforma Viola, dove sono in live tutte le mattine e tutte le sere e porto giochini come questo in live. Quindi, mi raccomando, vi aspetto. Tra l'altro, se avete Amazon Prime, potete abbonarvi gratuitamente aiutando e sostenendo Robertino vostro. Allora, nuovo gioco. Dobbiamo gestire una taverna nel Medioevo, da quello che ho capito. Allora, finalmente sono arrivato. Che bel postum! Eh, che bel postum! È molto cartonesca la grafica, mi piace. Bloccato. Ho bisogno di guardare dall'altra parte. Praticamente sono già rimasto chiuso fuori. Sono già rimasto chiuso fuori dalla mia taverna. C'è un pozzo. Pozzo dei desideri. Oh, devo rimuovere le assi. E come le rimuovo? Ah! Ok. Dai, dai. Aspettate che vorrei alzare un pochino il volume del gioco. Ok. Allora. Nuovo compito. Aprire le porte della taverna. Un cacatoio. Ah! Ammazza, è messa bene! È messa bene sta taverna, eh! Però devo dire che la grafica cartonesca così mi piace veramente tanto. Ok. Togliamo stasse qua. Oh! Riapriamo la taverna. Oh! Tiè! Tiè! Svuota la taverna al 50%. Come svuota? Pulizia della taverna. Ok. Piccoli detriti possono essere rimossi facendo click. Le macchie sul pavimento con lo straccio. Ok. Ok. Allora. 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 Posso semplicemente spazzare via questo tipo di sporco? Ehm. Non c'è saccuccia? Ehm. Allora, lui non vuole che tolgo. Lui adesso vuole che tolgo la roba piccola. Non devo andare sulla roba grossa. Va bene. Togliamo la roba piccola. Sia fatta la volontà del gioco. Quindi togliamo i cocci, contrococci. Ok. Questo tipo di sporco ho bisogno di uno straccio. Apriamo. Mocio. Come si fa? Ah, ok. Non devi... Non c'è bisogno di muovere molto. Basta tenere premuto. Basta tenere premuto. E vai. E vai. Damo una bella spazzatina. Ok. È soddisfacente pulire, eh. Io ve lo dico. Guardati intorno nel corridoio. Questi mucchi grandi. Ehm. Ah, ok. Trova qualcosa per colpire la spazzatura. Vecchie tovaglie. Ma come le vecchie tovaglie? Ma perché con le vecchie tovaglie copro la spazzatura? Che faccio? Nascondo la polvere sotto al tappeto. Non sto capendo. Non sto cacapendo. Cioè io qua ci metto la tovaglia. Vediamo un attimo. Nascondo i mucchi di spazzatura. Sì, ragazzi. Esattamente così. Cioè, nascondo la polvere sotto al tappeto. Bello. Bello. Mi piace. Mi piace. Mi piace sta cosa. Vai. Copriamo tutto. È a posto così. È tutto pulito. Fantastico. Conosco chi fa le pulizie di casa così, ragazzi, eh. Ne conosco, eh. E ora che io finisca i miei documenti. Ah, voglio aprì così, con tutte le ragnatele, tutto... Bello. 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 Mi fa aprì. Mi fa aprì di già, capito? Qua è tutto rotto, tutto sporco. Ma noi ce ne sbattiamo le pallette perché... Qua nel Medioevo non è che la polizia fosse... Questo è il cesso, quindi. È il cagatoio. Non è che la polizia nel Medioevo fosse, diciamo, la cosa più importante, ecco. Quindi, giustamente... Giustamente chi se ne frega. Allora, dobbiamo pulire... Sì, pulire, scusate. Dobbiamo fare i documenti. Non ho capito. C'ho pure l'ufficio, ragazzi. Ma che volete di più? Tra l'altro pure qui è da pulire, ragazzi. Oh, il mio lettinum! No, non è da pulire. Il mio lettinum. Allora. Allora. Oh, acquistare risorse. Ah, ok. Questo è il vero tavolo di gestione della taverna. Qui, ragazzi, gestiamo tutta la taverna. Acquistare risorse. Anche per decorare, per comprare nuove sedie, tavoli, forniture. Ok. Birra per fare i prezzi, magari. Ok. Ho capito. Quindi, 8 e 15 del giorno 0. Livello 1. Miglioramento. Miglioramento si migliora la taverna. Consegna, invece, ci consegnano la roba. Decorazioni, mobili, a risorse. Ci servono le birre. Allora. Quanti soldi abbiamo? 50 soldi. 50 soldi e quindi 5 birre. Dai. 5 birre. Prodotti. Bevanti. Ci abbiamo solo questa, eh. Consegna. Aspetta il cavallo con le merci. Ma posso uscire io intanto? Dopo l'ordine, attendi l'arrivo del carrello con le risorse. Tutte le risorse vengono inserite nella borsa. E poi porta il sacco al magazzino. Ok. Posso uscire? Intanto io, sì. Posso uscire mentre che loro mi consegnano la roba. Io posso uscire. Vedete, lì ci sono i secondi che... Che passano. Signorina, c'è un tipo che la sta seguendo, credo, con intenzioni manevole. Malevole. Malevole. Manevole. La menove. Consegna. Dov'è? Ah, sul retro. Beh, giustamente le consegne vanno sul retro. Ehm... Intanto qui... Oh, ma qua mi spawna la monnezza. Allora, eccolo. Salvum. Salvum. C'è il pala merce, c'è il vim. Sì, sì, ho visto, ho visto. Allora. Ehm... Ok. Prendiamo il sacco. E lo mettiamo nel magazzinum. Oh, magazzinum. Allora, eccola qua, eccola qua. Ehm... Perfetto. Ora, dobbiamo creare un'insegna. Un'insegna. Eccola qua, l'insegna. Che ci scrivemo sopra. Ehm... Ah, devo aggiustare? Oh, cliccate con il mouse, ragazzi. Cliccate dove c'è l'insegna del martello e lui aggiusta. Fichissimo. Ok. Rattopatto nano. Ma che cos'è? Allora. Vediamo un po' come... Come... Insegna. Io voglio il cinghiale. Voglio il cinghiale, ragazzi. Piacerà a mister me. Ma scusate, non si può... Scegliere un nuovo nome? Ah, ecco, ecco, ecco. Si può, si può. Si può. Ehm... Robby... Mellum. Robby Mellum. Tavernum. Robby Mellum. Tavernum. Tavernum. Robby Mellum. Tavernum. Guardate che bellezza. Guardate che bellezza, ragazzi. Robby Mellum. Oh, stavo a far vedere agli amici. Apertura e chiusura dell'osteria. Per fare questo, girare il... Ah, ok. Ok, quando è verso la strada è aperta. Se no, è chiusa. Ok. Adesso è chiusa. Guardate che bellum, ragazzi. Robby Mellum. Tavernum. Ah, si apre col fregnettum. Ah, vedete? Che spettacolo. Così è aperta. Robby Mellum. Tavernum. Guardate che spettacolo. La mia taverna medievale, ragazzi. Allora, ritorno al bar. Subito. Cioè, in un solo giorno abbiamo aperto, abbiamo pulito, abbiamo fatto tutto. Allora, abbiamo 10 bicchieri e 10 birre. Nuovo compito. Versa un boccale di birra. Fai clic sull'area di lavoro per iniziare a creare un ordine. Rilascia il mouse quando la freccia si trova nell'area verde, giallo-verde. Se rovesci, non dimenticare di pulire. Ritira il tuo ordine allo stand cliccando l'ordine LB. Dai un ordine al cliente facendo clic sul tavolo. Il cliente con LMB. Ok. Ok, sì, ma se non arriva il cliente, io perché devo versare la birra? Così, preventiva. Tanto non è che si scaldava nel Medioevo, eh. Allora. Opla. Mazza, è velocissimo. È difficile. È difficile. Allora. Ah, io qui posso... Ah, me li preparo prima. Me li preparo prima. Servi il tuo primo cliente. Sì, ma dove sta sto cliente? Dove è cliente? E qui tocca pagare i clienti per farli... Eh, cliente. Clienti. Eccolo, 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 eccolo. C-c-c-c. Aria professionale. Dietro, 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 dietro. Aria professionale. Dobbiamo essere professionali. Avum. Buongiorno. Benvenutum. Te salutum. Buongiorno. Tu voler un birrum? Io prendo birrum. Metto su vassoium. E te servum. Te è piaciutum? Te è piaciutum? Credo di sì, però. Mi sta a dare la salute, marrano. Corpo di mille balene. Una signorina. Allora, verso la birra pura la signorina, mo'. Intanto la preparo. Eh, non riesco ad arrivare a verde. È difficile arrivare a verde, eh. Vabbè. Ne ho preparate due per il momento. Servizio ospiti. Devi servire gli ospiti per guadagnare denaro. Non dimenticare di sparecchiare. Ah, giusto. Se ne andate il cliente. Prendo il bicchiere e i soldi. Il bicchiere come lo lavo? Come lo lavo il bicchiere, raga? Come lo lavo il bicchiere? Sì, signorina. Io la servo. Però... Non so come si... Come si lava il bicchiere? Non lo dice, non lo spiega. Questo che cos'è? Ragazzi, non spiega come si lava il bicchiere. Porca puzzetta. Ragazzi, non sto capendo come si lava il bicchiere. Sì, ecco, signorina. Beva, beva. Però non riesco a capire come lavare il bicchiere. Io ho i bicchieri sporchi qua, no? Ah, ecco. Forse è qua. E poi... E poi... Nessuna acqua pulita. Oh, raga, non sto a capire. Me lo sbloccherà dopo. Me lo sbloccherà dopo, dai. Me lo sbloccherà dopo. Allora... Intanto è sporco il tavolo. È sporco il tavolo. Quindi devo prendere una pezzettina. E pulisco il tavolo. Ah, qui la muovo io col mouse. Allora, fatemi ripi un'altra birrona. Ok. Ecco. Venga, signorina. Questo dovrebbe essere l'ultimo cliente. Vediamo se ci sblocca. Uh, ma avete zozzato tutto. Ma guardate. Ma guardate. Ma avete zozzato tutto. Sti clienti... Sono di una zozzeria, ragazzi. Guardate qua. Guardate qua. Non si puliscono mai le scarpe nel medioevum. Non si puliscono mai le scarpe nel medioevum. Ok. Poi. Ritiriamo tutto qua. Mettiamo il bicchiere a lavare. Ok. Nuovo compito. Prendi l'acqua dal pozzo. Oh, vedi? Clicca sulla maniglia del pozzo. Del pozzo. Ok. Mi dia un attimo, signore. Le do subito la birra e tanto vado a prendere l'acqua. Vado al pozzo. Te la vai i bicchieri. Tenghi. Tenghi, signore. Lei bevi pure. Bevi. E io vado al pozzo a prendere l'acqua. Allora. Pozzo. Secchio. Ah, la devo gir... No, la devo girare io. Oddio, mi metto a umidà. Ragazzi, la devo girare io. E mi spawna un secchio. Che carino. Mi spawna un secchio d'acqua. E poi metto l'acqua dove? Qua? No. Dove la metto l'acqua? Ehm, qua. Porta l'acqua dal pozzo. Ah, mi date un attimo. Già comincio... Già comincio a non capire più niente. Mancazza di risorse. È finita la birra. C'è la pianderchiù. C'è la pianderchiù. Allora, fatemi far... Un attimo, eh. Che me faccio portare altre birre. Risorse. Me faccio portare... Quanto c'ho? 65. Me faccio portare... 10 birre. Mi dia un attimo che la birra sta arrivando. Anzi, intanto... Prendo i soldi... E... Vado a... Nessuna acqua pulita. Ok. E adesso come si lavano i bicchieri? Daaaah! Piatti sporchi. LM... Che spettacolo! E mo? Ragazzi, non capisco come si lava. Ah! Devo... Devo farlo dentro all'acqua. Lo devo... Smanettare dentro l'acqua finché non diventa pulito. Vado, è fighissima sta cosa! Ragazzi! Sta cosa è fighissima! Reputazione. Più clienti servi, più diventerà famosa. Eeeh... La qualità dell'ordine influisce sul tipo di reputazione. Beh, certo. Se... Se gli serviamo la monnezza... E non... Non credo che... Saranno contenti, insomma. Allora. Altra roba. Altro sacco di birre. Magazzino. Serviamo. Arrivo, eh! Scusatemi se vi ho fatto aspettare, ma... Eh, bisognerebbe riuscire a... Andare sul verde. Ce la farò prima o poi andare sul verde, eh. Me lo sento. Ce la farò. Eeeh... Allora. Ok. Eeeh... Lì intanto è... Lì intanto è da pulire con la pezzetta. Eh, ragazzi, stiamo andando bene, eh. Primo giorno... Primo giorno di lavoro stiamo andando bene. Scusate. Scusate. Qua intanto. Ok. Aumenta la tua reputazione. E' mica è facile aumentare la reputazione qua, eh. Allora. Eccomi, eh, signorina. Mi scusi un attimo. Mi scusi un attimo che la servo immediatamente. Servo suo. Ma perché a me me mancano due... Due tazzine? Ho la sensazione che a me me mancano due tazzine. Boh. Me sbaglierò. Tenga, signorina. Me sbaglierò, ma... Secondo me me mancano due tazzine. Vedi? Mi dice due e poi me ne fallava una. Eh, eh. C'è qualcosa di... C'è qualcosa di... Che non va bene, eh. C'è qualcosa che non va bene qua. Tenga, signorina. Beva, beva. Ma che non mi ha pagato questa? Ah, beh. C'è qualcosa che non... C'è qualcosa dell'aria stasera? Che non si... Signorina, gli ha dato verde! Oh, ci sono arrivato quasi. Ci riprovo. Verde! Eh, quasi. E ci sto sempre più... Ad andare più vicino al verde, eh. Allora, beva, beva, signorina. Nuovo livello. E andiamo, amica ascoltatrici. Miglioria della taverna. Oh, vedete? Possiamo migliorare la taverna. Andiamo, andiamo in ufficio. E miglioriamo la... Taverna. Miglioramento. Livello 2. Espansione della taverna. Nuovi clienti, nuovi mobili, nuova decorazione. Ci vogliono 50 soldi. Ce l'abbiamo. E quindi vai. Siamo già a livello 2 della taverna, ragazzi. Tanta, tanta roba. Allora, io non so questa demo quanto dura, quanto non dura. Se è tutto, se è gioco completo. Però vedo che ci manda avanti. Ci sta mandando avanti. Quindi noi continueremo a lavorare, ragazzi. Continueremo la nostra vita di taverna. Quindi fatemi sapere nei commenti se questo giochino vi piace. Intanto io metto tutto qua in lavaggio. Lasciate un bel like. Mi raccomando, ragazzi, che per me è importantissimo. Like per la taverna. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!